Allora, innanzitutto ciao a tutte e tutti, grazie, volevo ringraziare, volevo fare due ringraziamenti. Il primo alle compagne e i compagni del Pedro per aver ospitato oggi questo ricordo e secondo a tutti voi, tutte e tutti voi che siete qui. A chi interverrà, a chi ascolterà, credo che la quantità di gente che ci ogge al Pedro dimostra quanto la memoria di Tony sia una memoria viva. Ecco, questa è la cosa, credo, più bella quando si fa un ricordo di qualcuno che non c'è più, ma c'è ancora perché ci siamo noi. Quindi grazie davvero di essere qui. Cercherò di essere veramente telegrafico. Lo scorso 3 gennaio, al funerale, Giudice ricordava come Tony non fosse particolarmente vicino a Benjamin. Ecco, cioè quella faccenda del futuro che procede con lo sguardo rivolto al passato e vede la storia svilupparsi come ammasso di macerie e non faceva propriamente per lui. Non perché Tony eccedesse in ottimismo della volontà, non aveva paura delle macerie, anzi esortava e ci esortava ad attraversarle con coraggio. Più il presente pareva varo e più invitava i suoi compagni ad abbandonare ogni nostalgia, a non rifugiarsi nella memoria di un passato feticizzato. Questo Tony l'ha sempre scritto e l'ha sempre detto. Anche quando attraversiamo un tempo tenebroso, sembrava suggerirci, gli occhi devono rimanere aperti, lo sguardo rivolto intorno e non indietro. Bisogna cogliere pienamente il presente e scrutare nel buio, ogni volta imparando a vedere di nuovo. E che cos'è la corricerca se non la nostra fabbrica di lenti. Solo così si scorgeranno sulla superficie della notte, pure di questa notte che stiamo attraversando, sentieri di liberazione che ci sono ma che altrimenti sono invisibili. Se non impariamo ogni volta a vedere di nuovo. Ad ogni modo c'è un passaggio beniaminiano, riletto di recente, che mi ha fatto davvero pensare a Tony. Notoriamente beniamin scrive che la rivoluzione, uno dei motori della rivoluzione, è il desiderio di redenzione degli oppressi e dei vinti. Un desiderio che si manifesta, e cito beniamin, in un appuntamento misterioso tra le generazioni che furono e la nostra. Ed è in tale convegno che sentiamo, e cito ancora, di essere stati attesi sulla terra. Ecco, a pensarci ora, capisco che a leggere Tony, o che a parlare con Tony, ho davvero provato la sensazione di essere in presenza di un instancabile organizzatore di questo misterioso incontro. E anche la sensazione che a questo appuntamento fossi chiamato a partecipare. Ecco allora la sensazione di essere atteso e al tempo stesso che da me, che da ognuno di noi, e ad ognuno di noi ci si attende qualcosa. E qui sta, io credo, una delle grandi differenze tra un pensiero accademico e un pensiero vita rivoluzionario. Il pensiero accademico mortifica, respinge, esorcizza, poiché lo teme, il desiderio di trasformazione. E' un pensiero che si sbarazza dei corpi, dei nostri corpi, perché quel misterioso appuntamento deve andare deserto. Perché deve toglierci gli strumenti per potervi partecipare. Il pensiero rivoluzionario, al contrario, anche quando rivolto al passato, vi è rivolto con l'intento di stare nel presente. Di redimerlo, no? Quando lo si incontra, il pensiero rivoluzionario, lo si riconosce perché finalmente ci si sente accolti, ci si sente convocati. Il pensiero rivoluzionario, e penso a Tony, prima ancora di essere compreso, è un pensiero che deve saper comprendere, perché ci comprende. Poi, per quanto si tratta del concetto di storia, Tony non è in fondo così distante da Benjamin. Scrive infatti Tony, e cito, e questa è veramente una cosa secondo me importantissima, Il passato non lo si interpreta, ma lo si sperimenta, ed è un'indicazione politica fondamentale. Perché? Perché l'ordine costituito, che vuole la storia come tempo morto, mentre la storia, e cito ancora Tony, è sempre genealogia del presente. Ancora cito, è immaginazione che porta all'essere ciò che è stato prima, alla stregua di come costituisce l'essere a venire. Tony ha lottato contro ogni concezione teleologica del futuro, ma non ha mai rinunciato ad indicarci quello che lui definiva a venire, con una visola, il tempo a venire, come orizzonte della politica e della democrazia assoluta. Il rivoluzionario lotta contro la temporalità come durata. Perché? Perché a durare sono le condizioni immateriali dell'oppressione. Cerca l'interruzione, la rottura, l'invenzione. E qui torno al tema dell'immaginazione su cui vorrei chiudere. Secondo Tony, infatti, non c'è rivoluzione senza immaginazione. E l'immaginazione, lui scriveva, è qualcosa di molto diverso dalla fantasia, no? Da un vuoto fantasticare. Al contrario, è una prassi dotata di potenza ontologica. È qualcosa che ha la forza di rompere il tempo come per durare e di aprire la costruzione di nuovo essere, di materializzare il tempo a venire. Ecco la definizione che Tony dà di immaginazione. L'immaginazione, scrive, è un gesto linguistico quindi comune. Il gesto di chi getta la rete sull'avvenire per conoscerlo, per costruirlo, per organizzarlo con potenza. Ecco, in questo nostro tempo facciamone tesoro. Grazie. Grazie.